Sono Giuseppe Fallacara, docente presso il DICAR del Politecnico di Bari e vi do il benvenuto a questo webinar di presentazione del libro di Alessandro Melis, Utopic Real World, Invention Drawings. Il libro si compone da una mia presentazione, da sei saggi degli autori oggi qui presenti, Marco Stigliano, il gruppo 3VR che è rappresentato da Ilaria Cavaliere, Francesco Scricco, Zella Tesoriere, Renzo Lecardane e Diego Repetto, che ringrazio profondamente per aver aderito e contribuito alla realizzazione del libro con la scrittura di articoli profondi e significativi. Il libro è composto anche da una sezione di immagini, ovviamente la più importante, relativa all'opera disegnata di Alessandro Melis. Quest'ultima sezione è stata suddivisa dai curatori del catalogo in quattro tematiche di ricerca, superfici tettoniche, architetture megalitiche, architetture e zoomorfe e spazi piranesiani. Questo webinar cercherà di entrare all'interno del mondo di Alessandro da differenti punti di vista e attraverso differenti letture della sua opera. Lo faremo con uno scambio di domande e risposte tra gli autori dei saggi contenuti nel libro e Alessandro. Lo scambio sarà scandito da un tempo breve ma intenso e oscillerà tra realtà e visionarietà. A tal proposito è importante sottolineare che il libro riporta in apertura una detica che recita a tutti i visionari che pensano ad un cambiamento possibile. Dal mio punto di vista, all'origine dei meravigliosi disegni visionari di Alessandro Melis, vi ho una ricerca architipica dell'architettura, simile a quella di Piranesi, dove massi e rovine dialogano in armonia e in dolci abbracci con la natura. Vi ho un dialogo d'amore tra le rovine del passato e la natura che dà vita a un'architettura nuova, al contempo biologica inerte, resiliente e autopoietica, corazzata e in grado di reagire alle mutazioni climatiche. Una nuova architettura in perfetta simbiosi tra natura e artificio, tra paesaggio e tecnologia, autocreatasi non direttamente per voler umano ma indirettamente per la sua incapacità di preservare il creato. Se non saremo in grado di creare e credere in un nuovo racconto epico per l'architettura del prossimo futuro, sicuramente non saremo in grado di comprendere l'opera di Alessandro Melis, che ci suggerisce che è giunto il tempo dei visionari, gli unici in grado di ripensare radicalmente alle relazioni tra umanità e habitat. Adesso io vi voglio presentare una sequenza di immagini in cui ho tentato di ricostruire, dal mio punto di vista, un possibile mondo immaginario, molto probabilmente visto o comunque presente nella mente di Alessandro, da cui fa derivare i suoi disegni di invenzione. Quindi il catalogo riporta sostanzialmente immagini che nella sezione tettonica riportano a loro genesi, quindi forse ad immagini presenti nella litosfera che Alessandro ha molto probabilmente visto, conosciuto. Quindi il riferimento costante alla natura può essere, come da sempre, il riferimento dei suoi disegni. E dal mio punto di vista, o mi piace immaginarlo, le architetture senza tempo della Sardegna, l'archeologia sarda, può essere sicuramente alla base delle sue ispirazioni per la creazione di una nuova architettura, appunto, che fa riferimento alla natura, che trae dalla natura delle immagini che vengono rielaborate nella sua mente e nei suoi disegni visionari. A me piace immaginare questo tipo di relazione tra i monoliti sardi, forse visitati da bambino oppure visitati ancora oggi, e le sue proposte architettoniche. Quindi l'italianità di radice sarda che viene riportata nel mondo è ovviamente declinata in base a tutto ciò che la contemporaneità è di supporto alla sua mente. Anche gli spazi interni, il famoso Pozzo di Santa Cristina, per esempio, questi spazi dalla sezione triangolare, buia, da penetrare, da poter visitare, mi piace immaginarli riportati in Biotech City 2, in cui proprio lo spazio interno triangolare rievoca gli spazi antichi sardi, da cui lingue di corridoi sospesi possono vivere all'interno di queste grotte dall'aspetto zoomorfo e possono essere un tramite tra architettura del passato e futuro. Ovviamente questa è una mia suggestione, un mio pensiero rispetto a quelle che possono essere le immagini che hanno potuto dar vita all'immaginario visionario utopico di Alessandro. E quindi nelle lingue, come dire, di corridoi sospesi che penetrano nelle masse, è anche possibile intravedere il mondo tutto italiano piranesiano, spazi sospesi tra architettura linea, elastico linea e architettura litica che convivono in forma labirintica. Tutto ciò riporta alla sovrapposizione e alla stratificazione ovviamente del paesaggio ancora sardo, che negli intrecci e nel palinsesto ovviamente delle stratificazioni può dar vita a un nuovo linguaggio di intrecci, di superfici architettoniche, riecheggiano un po' questo che è il substrato di nascita di Alessandro. Ovviamente poi c'è il riferimento diretto al mondo zoologico, zoomorfo e biomorfo. Per esempio mi piace intravedere nella muta, negli animali, nella forma della metamorfosi il rapporto tra geologia e forme urbane architettoniche che attraverso proprio il processo di metamorfosi, di cambiamento, può far intravedere una Audrey Hepburn, ossia la farfalla nel bozzolo interno dell'esoscheletro di un insetto, che non vuole soltanto, e concludo, essere un riferimento astratto rispetto alla natura, ma si può, nelle mani sapienti del disegnatore incredibile che è Alessandro, prendere forma razionalmente come forma architettonica possibile e reale. Io concludo questa mia breve suggestione con una domanda molto semplice che faccio a Alessandro. Esiste un rapporto che ho tentato di dimostrare, forse può essere anche non corrispondente a realtà, esiste un rapporto tra la dolce durezza megalitica sarda e la visionarietà utopica della tua architettura disegnata? A me piacerebbe avere una risposta positiva su questo, ma ovviamente qualsiasi tipo di risposta può essere altrettanto, anzi sicuramente interessante. Il rapporto esiste senz'altro, se non esistesse sarebbe comunque un rapporto reale da considerare in ogni caso per quelle che secondo me sono i presupposti del disegno di cui magari potrò fare un cenno, i presupposti psicoanalitici del disegno mi riferisco. No, in questo caso esiste ed è abbastanza cosciente, nel senso che io stesso mi rendo conto che la mia infanzia passata in Gallura è stata un'infanzia in cui praticamente ogni roccia di granito della Gallura rappresentava un'architettura, un mondo da scoprire. Soltanto di recente ho scoperto che non era casuale, che questo processo che il mio cervello attivava è un processo abbastanza classico di individuazione di spandrel, di pennacchi, come definirebbe Steven J. Gould, cioè di processo del cervello attraverso cui si individuano delle forme nel paesaggio e queste forme vengono riutilizzate in chiave di architettura dall'uomo. Questo è un processo mentale che l'uomo è capace di fare fin da 150.000 anni circa. In realtà poi c'è anche un altro passaggio ancora più cosciente, forse più legato alla mia formazione di architetto, riguarda il fatto che il Tempio Pozzo di Santa Cristina, che tu hai citato, è un luogo magico per i radical austriaci, è praticamente la meta di un percorso iniziatico che unisce la prima e la seconda generazione di architetti radicali austriaci e che, se vogliamo, è l'architettura che fa conoscere a noi Raymond Abram come il fondatore di questo gruppo fondamentale dell'architettura tra gli anni sessanta e gli anni ottanta, cosciente perché poi questo è di fatto il soggetto, anzi l'oggetto del mio dottorato ed è la ragione per cui considero ancora oggi architetti come Raymond Abram, le Beaus Woods e qui si capisce qual è il legame con l'architettura disegnata e il mio maestro Wolf Priggs come mio mentore. Sono in area cavaliere e sono qui in rappresentanza del gruppo di tesi seguito dal professor Fallacara. Nel corso di quest'anno abbiamo avuto modo di confrontarci con alcune delle opere di Alessandro Melis, in particolar modo con Biotec City 2, di cui abbiamo ricreato il modello 3D della creatura e l'abbiamo calato all'interno di un contesto urbano creato sempre da noi e, anche se in misura minore, con Urban Insect e con Stone Arc. Questi invece li abbiamo calati all'interno di un contesto più naturalistico. In particolar modo l'approccio è avvenuto tramite la modellazione 3D all'interno di software come Rinoceros e Cinema 4D e da qui poi abbiamo ricavato render, fotomontaggi e la realtà virtuale. In particolar modo la realtà virtuale ci ha consentito di avere una visione a 360 gradi di questi oggetti e ci ha fornito consapevolezza di caratteristiche architettoniche che invece diversamente da soli disegni 2D non avremmo potuto ottenere e ci ha permesso anche di comprendere sia i pregi sia i limiti di questi oggetti. Per esempio nel caso di Biotec City 2 abbiamo dovuto rendere fruibile questa creatura anche dall'interno e abbiamo dovuto renderla realmente a misura d'uomo. Quindi avendo lavorato direttamente a questa modellazione tridimensionale abbiamo avuto modo di constatare non solo l'estrema complessità delle forme ma anche la difficoltà nel creare un rapporto con l'ambiente in cui potrebbero essere collocate. In particolar modo la sfida più grande con cui ci siamo confrontati è stata quella di immaginare in modo architettonicamente definito delle strutture che invece nascono da suggestioni ma che non si prestano ad essere realmente vivibili. Quindi la domanda è durante il processo creativo si è mai palesato un desiderio di andare oltre la dimensione visionaria cercando di approfondire degli aspetti legati ad una fruizione più concreta? Sì la risposta è positiva nel senso che la mia idea della visionarietà non è un'idea di ricollocamento della visionarietà su un piano astratto ma io ritengo che l'architetto abbia il dovere di essere visionario e di pensare che questo sogno sia un sogno realizzabile. Per cui questa cifra esiste anche nei miei disegni ovviamente tenendo presenti in modo banale forse in modo un po' anche eccessivamente prosaico che possono essere intesi un po' come dei concept car per l'industria automobilistica cioè sono dei disegni che stimolano idee che poi ovviamente in parte possono essere travasate anche in progetti attuali, progetti in corso in questo momento. Questo nel breve termine. Per quanto riguarda invece una posizione strategica io ritengo che siano strumenti anche di riflessione che consentono di sviluppare idee attraverso quella che Diego Repetto definiva processo attraverso il pensiero associativo. Cioè anche se anche quando non sono intesi come progetti fini a se stessi sono comunque disegni che stimolano un processo mentale che porta a un'esplorazione di spazi e di idee in modo del tutto diverso e sperabilmente capace di informare le architetture del futuro in modo più verso una tendenza di sviluppo positivo. Allora io nel mio saggio ho provato a interpretare ovviamente con i miei mezzi quello che potesse essere il rapporto tra i disegni di Alessandro e in particolare mi sono riferito alla serie City for Insects e le architetture che il suo studio Heliopolis 21 ha realizzato in particolare ad esempio quelle per Riva del Garda. Cerchendo di comprendere come l'affinità espressiva si potesse come dire instaurare tra ciò che era il modello architettonico e la tecnica grafica che Alessandro utilizzava nei suoi disegni. Entrando probabilmente in quel solco tracciato dalle esperienze di quegli autori che nei primi anni 80 in quella fase di passaggio tra il mondo diciamo del disegno ancora manuale al passaggio appunto al digitale e quindi citavo Zadid, Bernard Ciumi, avevano come dire tracciato andando a utilizzare la tecnica espressiva dei propri disegni come una sorta di algoritmo anche progettuale per definire i linguaggi nuovi delle loro architetture. Quindi vorrei chiedere ad Alessandro mi piacerebbe conoscere un po' di più di Alessandro Melis progettista e quindi di come funziona il rapporto che all'interno del suo studio si costruisce tra il personalismo dei suoi disegni e quella che invece è la necessaria complessità multidisciplinare dell'elaborazione di un vero e proprio progetto di architettura. Ovvero nei suoi disegni Alessandro si legge sicuramente una componente intenzionale di narrare architettura però ne emerge anche un'altra che invece è permettimi totalmente irrazionale e non riducibile a una qualsiasi tipo di categoria architettonica fortemente personale e intima ed è probabilmente quella componente che fa fare tilt fa accendere come dire la lucina della voglia di conoscere di più da parte di un osservatore che guarda i tuoi disegni. Quindi proprio questa ultima componente più intima e personale come tu la trasformi in un progetto di architettura. La domanda di Marco mi consente di continuare il ragionamento che facevo prima. Nel disegno si intersecano due tendenze. Questa a cui faccio riferimento non è una mia opinione ma come dire sono riflessioni che nascono dalla lettura di filosofi e di biologi dell'evoluzione che hanno insegnato a me questo ad essere allineato con queste riflessioni. Cioè il disegno fin dalla sua origine consente un passaggio di relazione, la costruzione di una relazione tra il pensiero lineare e il pensiero associativo. Su questo Heather Pringle, paleantropologa, ha spiegato molto bene come queste due relazioni si costruiscono. Quindi questa relazione di cui parla Marco esiste. Cioè da una parte c'è nel disegno la volontà di realizzare un, chiamiamolo così, un progetto reale. Dall'altra invece c'è la volontà di raccogliere informazioni transdisciplinari che agiscono, che si inseriscono all'interno di questo percorso lineare, in modo irrazionale o associativo direi io. Questi due processi in realtà non sono processi che io attuo, diciamo non ne sono l'autore, l'inventore. In realtà questo è un processo che fa parte del disegnare e che io cerco di enfatizzare o di studiare attraverso i miei disegni. Si trasforma in architettura in questo senso. Cioè il pensiero associativo è una modalità di crisi, mentre il pensiero lineare è la modalità standard di sopravvivenza. Il problema vero è che in fase di crisi come quella attuale non siamo in grado di percepire o di prevedere come nuove funzioni possano trasformare le architetture che viviamo in modo più resiliente. Il pensiero associativo ci viene in aiuto. È un pensiero che non punta direttamente a una funzione cosciente di un edificio, per esempio, ma inserisce una serie di informazioni e dati che come elementi di disturbo producono risultati e funzioni che non erano prevedibili attraverso il pensiero lineare. Quindi non solo ritengo che questa irrazionalità diventi poi progetto, ma è l'elemento che consente al progetto deterministico di oggi di diventare resiliente perché indeterministico e quindi potenzialmente utilizzabile nel futuro secondo obiettivi che oggi non siamo in grado di prevedere. Prendo la parola e ringrazio sia Giuseppe Fallacara che Alessandro Melis per avermi coinvolta nella lettura dei disegni, nelle riflessioni sui disegni, nella composizione del volume e nell'intervento di oggi. Sono Zeila Tesoriere, insegno progettazione architettonica al DARC, Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo e sono da molti anni anche membro e socio fondatore degli atti dei laboratori di ricerca sull'architettura, l'infrastruttura, il territorio che ha sede a Parigi nel volume d'architettura di Malachè e da tre anni coordino all'interno di questo laboratorio un'asse che si occupa del rapporto fra le figure concrete dell'infrastruttura e la trasformazione architettonica dei territori. Quando ho avuto modo di conoscere meglio e di approfondire alcune riflessioni sollecitate dai disegni di Alessandro, ho colto in questi disegni la capacità di ritrarre un mondo composto in equilibrio in cui si dà per compiuto l'interspecismo sia vegetale che animale. I mesi che stiamo vivendo nel confronto ineludibile con la più recente di una serie di zoonosi, perché il Covid-19 è una zoonosi come lo sono state l'Ebola, la SARS, la Zika, ci mette di fronte alla necessità di considerare in maniera sempre più stringente la devastazione dei biomi e la necessità di un approccio realmente resiliente, quindi non solo genericamente sostenibile, nel rapporto fra l'architettura e le trasformazioni che l'architettura coordina, progetta, formalizza per i territori. Queste zoonosi sono veicolate da virus e questi virus, come gli esperti in questi mesi ci hanno spiegato, potrebbero compiere non solo uno, ma molti salti di specie, tanti salti di specie quanti ne consentirebbero i recettori disponibili in qualsiasi animale si trovi intorno alle comunità, insieme alle comunità. E allora se ci troviamo confrontati a questa condizione reale, che riflessioni possiamo fare rispetto agli habitat multispecie che popolano i disegni di Alessandro, rispetto all'idea di progettare non per comunità umane, ma anche per altre comunità che sono compagne, che vivono insieme, che co-evolvono, che si co-trasformano. L'emergenza sanitaria che ha investito il nostro pianeta, che è soltanto l'epifenomeno di una serie molto più ampia e devastante di trasformazioni che stiamo imponendo al pianeta, conduce l'architettura a rinunciare alla prospettiva dell'interspecismo, a rivederla in tutto, in parte. Mi farebbe molto piacere avere uno scambio con Alessandro su questi temi. Grazie. Anche in questo caso la domanda mi consente di articolare, di approfondire meglio quello che dicevo prima. Forse qui vale la pena fare una premessa. Questa domanda mi spinge a dover dire che, essendo Stephen Jay Gould, come ho detto più volte, un mio punto di riferimento in architettura, nonostante sia un biologo dell'evoluzione, non posso che notare come l'architettura che abbiamo costruito fino ad oggi sia un'architettura che è macchiata da un peccato originale. E il peccato originale è quello di ritenere che sia il risultato più avanzato della specie umana all'apice di una scala evolutiva. Ecco, Stephen Jay Gould, non mi addentrerò sul fatto tecnico, Stephen Jay Gould dimostra che questo non è vero, che l'uomo non è in cima a nessuna scala evolutiva e che quindi questa sua presunzione di aver realizzato, per esempio, le città, il più alto risultato della civilizzazione, secondo questa prospettiva, si è trasformata paradossalmente in una prospettiva di antiresilienza. Quindi un habitat multispecie è per definizione, secondo l'approccio di Stephen Jay Gould, più resiliente, al punto tale che Stephen Jay Gould fa una precisazione. Qui faccio un passo indietro, prima di parlare dello specismo. Stephen Jay Gould addirittura arriva, attraverso un ragionamento, a definire che la nostra società è fondata su 10 mila anni di società fondati sul centrismo, sulla centralità della figura maschile, è che neanche un progetto di società binaria, quindi maschile e femminile, cioè a due sessi, è un progetto sufficientemente resiliente. E così andando oltre fino a comprendere che nemmeno un progetto, se prendiamo il problema del gender balance, un progetto multisessuale o metasessuale è sufficiente. quello che è necessario arrivare a un progetto di civilizzazione che sia totalmente ecologico, quindi totalmente immerso in un processo di relazione in cui ogni specie porta un elemento di equilibrio alle altre. Secondo questo ragionamento, è vero che sul breve termine c'è un elemento, una tendenza contraria, cioè il fatto che la relazione tra uomo e animale, se interpreto bene la domanda di Zeila, è stata in fin dei conti la ragione, quindi la pressione dell'urbanizzazione verso habitat, verso biomi che erano protetti, è stata la ragione del salto di specie. In chiave tattica operativa questo è il problema, però in questo caso noi parliamo anche di interspecismo in una chiave più, chiamiamola così, strategica, cioè l'equilibrio tra le specie non implica necessariamente una pressione sociale, una pressione, come posso dire, urbana, così forte come quella che noi abbiamo esercitato nei confronti degli altri biomi. implica invece la possibilità di creare, come dire, delle relazioni armoniche tra queste diverse specie sul lungo termine. Cioè quello che sto dicendo è che l'interspecismo sul breve termine costruisce una tendenza che, come dice Stephen Jay Gould, diventa una tendenza che può avere anche dei riscontri negativi. Ma se invece lo pensiamo in un arco di tempo molto più esteso, quello, chiamiamolo così, dei tempi della biologia dell'evoluzione, quindi in questo caso le relazioni tra l'homo sapiens e le altre specie è una tendenza che dura da 150.000 anni, è una tendenza, come dire, una relazione che dura da 150.000 anni, possiamo costruire delle relazioni positive. Quindi questa domanda, secondo me, sottointendo un altro ragionamento, che quando lavoriamo nella prospettiva dell'interspecismo dobbiamo lavorarci in una prospettiva strategica, non operativa, perché a livello operativo si sono create quelle problematiche che conosciamo oggi e che riguardano il Covid. Sono il professore Le Cardane dell'Università degli Studi di Palermo, insegno progettazione architettonica presso il Dipartimento di Architettura di Palermo e sono associato al Dipartimento LIAT Laboratoire Infrastructure Architecture Territoire dell'Ecole d'Architetture Paris-Malaché. Ringrazio Giuseppe Fallacara che ha curato il libro di Alessandro Melis per avermi invitato a questa interessante esplorazione attraverso i materiali e le immagini che ci sono state fornite dal amico Alessandro Melis per invoiali lettori a leggere questo libro catalogo del lavoro di Melis e dentro il quale io ho scritto un breve articolo sull'esplorazione sul futuro prossimo e il mondo reale. A proposito di questo articolo è interessante approfondire alcune questioni grazie alle risposte che darà proprio Alessandro Melis e ho formulato una grande domanda che in realtà sono divise in due che girerò proprio ad Alessandro. Una prima riflessione va fatta sui disegni di Alessandro Melis. Sono eventi architettonici che offrono traiettori possibili alle visioni dell'immaginario futuro del mondo reale e in quanto evento architettonico producono una morfologia di forme e che prendono via via definizioni. Allora chiedo ad Alessandro qual è la differenza di potenziale nella dimensione del progetto contemporaneo attraverso le sue esplorazioni? E poi un tema che ha a che fare col mio testo è quello della paura. La paura e i fantasmi di un mondo nuovo spesso inquietante sono i protagonisti di alcuni disegni come la serie di Shining Dark City del 2011 contro il ritorno ai fantasmi di un sistema falsamente irreversibile. Qual è il potenziale dell'immaginario dei gesti barriera di cui parla Bruno Latour recentemente proprio a seguito della crisi pandemica per sperimentare nella città post-crisi sanitaria ciò che è desiderabile e ciò che ha smesso di esserlo? Dunque nella premessa alla domanda di Renzo sull'aspetto delle traiettorie possibili alle visioni dell'immaginario futuro nel mondo reale l'idea che l'evento architettonico produca una morfologia di forme mentre prende definizione secondo me rappresenta perfettamente cito per l'ennesima volta Stephen Jay Gould il concetto di exaptation cioè trovo sempre sorprendente prima di rispondere a altre domande mi dà l'occasione di parlare di questo aspetto trovo sempre sorprendente che mentre in architettura non c'è mai stata ripeto negli ultimi dieci mila anni una riflessione sul significato di progetto inteso in senso biologico questo è un ragionamento che invece nella biologia dell'evoluzione fa parte della letteratura da decine di anni mi spiego meglio in biologia esiste un termine aptation che comprende sia la progettazione parliamo di da parte della natura quindi parliamo della selezione naturale sia l'intenzione di creare forme che rispondono a certe funzioni sia la creazione di forme che non rispondono a determinate funzioni questa condizione si è dimostrata essere essenziale per la sopravvivenza delle specie per la sopravvivenza degli organismi questo aspetto è stato trascurato nella progettazione cioè ricordi io non esiste una letteratura che parli di una progettazione se non in tempi molto recenti con altre definizioni parole che comunque sono estemporanee non esiste una definizione di progettazione in cui la progettazione in cui le indicazioni sulle forme sia non finalizzata a una funzione prestabilita ma finalizzata a creare opportunità di resilienza che possono essere cooptate funzionalmente in futuro questo processo invece fa parte di una letteratura vastissima e importantissima in biologia ora noi stiamo attraversando in questo momento un momento di crisi drammatica ed epocale è chiaro che non è soltanto una crisi della come dire una crisi ambientale come posso dire al di fuori di un contesto è una crisi ambientale di origine antropica se andiamo a studiare dal punto di vista architettonico ci accorgiamo che la principale ragione di questa crisi è il determinismo della progettazione cioè l'aver pensato una serie di strutture una serie di contesti di fino ad arrivare alle città e agli edifici che rispondono a delle funzioni prestabilite ma che non sono state in grado di rispondere a delle condizioni che si sono verificate successivamente ecco la natura aveva già o meglio gli studi di biologia dell'evoluzione aveva già delle risposte possibili per attuare strumenti di progettazione tali da evitare questo problema semplicemente non sono mai stati studiati in architettura ecco perché secondo me il disegno importante il disegno importante soprattutto quando mette in moto quello che dicevamo prima le relazioni neuronali che sono alla base del pensiero associativo che sono appunto quegli strumenti che consentono di progettare creando opportunità e non funzioni cioè in questo senso si può sia informare la nuova dimensione di un progetto contemporaneo come si diceva prima sia allo stesso tempo ipotizzare un workflow progettuale che consenta anche la reversibilità perché il progetto non è pensato per una funzione ma è pensato per creare delle opportunità effettivamente io leggo nella domanda in questa domanda anche altri due termini importantissimi il primo l'idea del gesto barriera che in qualche modo si potrebbe trasferire nel nella biologia dell'evoluzione con il termine dente di arresto cioè esistono dei processi che poi diventano come dire dei potenziali strumenti appunto di protezione rispetto ai cambiamenti in corso il secondo è che effettivamente in modo inconscio noi questa progettazione non è che non l'abbiamo mai adottata esiste semplicemente non l'abbiamo mai compresa non l'abbiamo mai studiata però esiste una come posso dire una vastissima letteratura che dimostra come nell'informalità o come in riferimento alla domanda come nella storia questo fenomeno dell'exaptation è stato utilizzato tantissime volte semplicemente non ha mai ricevuto quella dignità da parte degli architetti di importanza che sembra dal nostro punto di vista come architetti non esserci cioè in qualche modo come architetti come studiosi dell'architettura abbiamo sempre sottostimato il valore di quel tipo di processo perché abbiamo dato per scontato che la preziosità la dignità del nostro pensiero risiedesse esclusivamente nella capacità deterministica di prevedere una condizione futura e non abbiamo invece immaginato che i grandi geni i grandi come dire visionari sono stati proprio quelli che sono stati in grado di progettare opportunità non di prevedere il futuro buonasera a tutti personalmente quello che più mi ha affascinato dell'affrontare il tema della lettura architica dei disegni di Melis è stata la ricchezza di spunti che questi offrivano spunti interpretativi e anche spunti di connessione tra il mondo dell'architettura e quello del cinema nell'architettura per tutti i riferimenti alle tecniche compositive che sono chiaramente leggibili nei suoi disegni che richiamano direttamente o indirettamente ad esempio ai progetti di Peter Eisenman o anche di Van Berker quella fluidità dei percorsi delle connessioni o quello nascere quasi tellurico delle architetture dal suolo nel cinema possiamo poi dire tantissimi riferimenti nel tema in particolare della mutazione che sia essa la mutazione dell'architettura della città del corpo dell'uomo basti pensare all'onipresente Giger che è chiaramente spesso citato ma anche portiamo poi dei riferimenti alle illustrazioni per Blade Runner di Sid Mead o di Jodorowsky pensiamo alle cupole semoventi in forma quasi umana umanoide trasformata o tutti i riferimenti alla cultura giapponese dove anche là il tema della mutazione è molto presente e pregnante da Akira a Tetsuo uno e due gli straordinari film di Shinya Tsukamoto tra questi l'elemento forse che lega il cinema l'illustrazione del fumetto della graphic novel e l'elemento dell'architettura è la figura di Lebeus Woods che si è misurato con dei disegni che ragionavano su temi molto prossimi a quelli di Mellis a mio modo di vedere soprattutto per l'idea dell'architettura che si trasforma in conseguenza di mutazioni di tipo naturalistico di eventi catastrofici di terremoti o anche di guerre come nel caso dei disegni di Woods per Sarajevo in quest'ottica della lettura dei disegni la mia domanda era appunto sul tema dell'architettura disegnata cioè quella che si svinqua dalle esigenze progettuali e cerca di fare del disegno un mondo a sé stante quasi una indipendente dall'architettura progettuale sappiamo che spesso anche soprattutto in Italia ha avuto varie declinazioni l'architettura disegnata sia nel tema molto autoriale autoreferenziale intimo dell'autore che spesso però ha sfociato nel manierismo dei limitatori ma anche soprattutto in quella che cercava di dare appunto un'autonomia figurativa e di senso all'architettura anche in rapporto al tema dell'utopia urbana e quindi volevo chiedere a Melis come si inserisce il suo disegno in questo discorso suo disegno che mi sembra anche inseguire molto il tema del racconto del voler raccontare attraverso l'illustrazione la città che si trasforma e quindi chiedere se questa maggiore attitudine nel racconto vi deriva da una vicinanza al mondo delle graphic novel e dell'illustrazione anche cinematografica questa domanda mi consente di parlare di un tema che a me è molto caro che è quello della transdisciplinarità in questo caso intesa come capacità o possibilità da parte degli architetti di comunicare su un piano diverso che secondo me è stato un po' un limite dell'architettura o diciamo dell'autonomia in architettura mi sono accorto soprattutto negli ultimi anni io mi considero più un educatore che un architetto che il potenziale espressivo delle arti creative ed industriali è per la prossima generazione per la prossima generazione di architetti credo e comunque per l'attuale generazione di giovani studenti di architettura come dire le arti creative sono molto più forti hanno un potere comunicativo molto più intenso e capace di motivare e di spingere gli studenti alla creatività questa capacità di comunicare ad un livello così efficace è mancata l'architettura degli ultimi anni per cui non posso che essere d'accordo con te Francesco quando noti che ci sono grandi influenze nel mio modo di disegnare di discipline come il gaming come gli anime e manga il cinema e soprattutto l'influenza di una modalità che in architettura non sempre è presente che è presente invece nel modo di disegnare di tutte queste forme d'arte come come dici tu cioè il fatto che queste forme d'arte presuppongono che il disegno sia anche uno strumento narrativo in architettura questo non sempre avviene quindi ogni disegno non rappresenta una forma ma rappresenta anche una storia un percorso che è leggibile in modo istantaneo ecco questo secondo me è importante proprio perché è una modalità attraverso cui stimolare i neuroni in forma associativa sappiamo infatti che questa è stata la prima spinta dell'uomo cito di nuovo Eter Pringle quando ha studiato il modo con cui gli uomini e qui devo fare una nota hanno cominciato a lasciare le proprie tracce sulle rocce questa era la spinta era una spinta di tipo narrativo era una spinta non finalizzata a un utilizzo non finalizzata alla progettazione era finalizzata alla possibilità di trasferire se stessi soggetto nell'oggetto nella roccia questo processo è quello che si chiama quindi spostare la propria narrativa all'interno di un disegno questo processo che è un processo filosofico di oggettivazione è un processo fondamentale una cosa che mi piace notare con questo vorrei chiudere è che proprio di recente a proposito della rieficazione e del concetto dei diecimila anni di cui parlavo prima esiste uno studio recente che dimostra che i primi disegni sulle rocce non erano disegni di uomini ma erano disegni nella maggior parte realizzati da donne ecco questo secondo me è una classica rappresentazione un classico esempio di come noi abbiamo costruito un mondo immaginandoci una serie di regole senza poi renderti conto che queste regole effettivamente non esistevano quello che sto cercando di dire è che noi abbiamo sempre dato per scontato che ci fosse una sorta di maggiore dignità maschile nella capacità di progettare di disegnare di rendersi protagonista di questa di questa parte dell'evoluzione umana per poi scoprire che questo in realtà è il risultato di una costrizione di una costrizione che è stata portata avanti dalla civilizzazione mentre apparentemente i primi processi di oggettività trasformazione di soggetto in oggetto e quindi i primi tentativi di passare dal pensiero lineare al pensiero associativo evidentemente sono stati fatti da un cervello femminile e volevo chiederti la tua ricerca architettonica e anche universitaria nel per il 2030 come come la prevedi cioè che evoluzione avrà e poi oltre a questo volevo chiederti come vedi tu il concetto anche del punto di non ritorno del 2050 tutte visioni lungimiranti ecco e solo questa era la mia richiesta e la mia domanda riferito anche a un discorso delle tue esperienze in campo proprio di pensiero associativo la traiettura della mia ricerca è segnata secondo me dal lavoro di questi ultimi anni credo di essere ossessionato da questa idea che è un'idea transdisciplinare cioè che per guardare al futuro dell'architettura e al futuro delle nostre città sia necessario non più prendere in considerazione uno spazio temporale di 10.000 anni e quindi una letteratura a questo spazio temporale corrispondente ma che sia necessario lavorare su una tempistica più ampia una tempistica che è quella dei 150.000 anni se ci vogliamo limitare all'evoluzione dell'uomo se no possiamo andare oltre questa prospettiva ci consente di poter affrontare le crisi epocali le crisi globali come questa avendo strumenti di comprensione delle relazioni tra uomo e natura molto più avanzate questo ci consente anche di fare qualcosa che è apparentemente impossibile se usiamo i termini dell'equazione degli ultimi 10.000 anni che ci porterebbero inevitabilmente a un'equazione impossibile da risolvere cioè in realtà riguardo al 2050 al punto di non ritorno a me verrebbe da dire che in realtà il punto di non ritorno l'abbiamo già abbondantemente superato si potrebbe quasi dire che nel 2013 a maggio del 2013 con il superamento delle 400 parti per milione di CO2 siamo entrati in quello che in una pubblicazione chiamato terra 2 cioè una condizione ambientale ed ecologica completamente diversa da quella conosciuta dall'uomo in tutta la sua storia precedente detto questo sembrerebbe che il risultato possa essere la come dire la fine perché siamo oltre il punto di non ritorno in realtà io penso proprio quello che stavo dicendo prima cioè che se in realtà spostiamo la nostra attenzione dalla da una fase ben precisa di civilizzazione che è quella che è portato a questo tipo di paradigma di alleanza tra uomo e natura la spostiamo in un arco temporale molto più vasto possiamo prendere in considerazione possibilità di risposta a questa condizione di non ritorno molto diverse rispetto al paradigma che conosciamo oggi quindi stiamo parlando di una visionarietà ultra potenziata cioè parliamo di una visionarietà che va oltre come posso dire l'idea del superamento della crisi del 300 attraverso il rinascimento stiamo parlando di una capacità visionaria che consenta di superare i paradigmi della civilizzazione umana come l'abbiamo conosciuta oggi uno degli aspetti fondamentali che ha caratterizzato questi 10.000 anni era l'idea dell'artificio cioè del fatto che esistesse una condizione di artificialità contrapposta a una condizione di naturalità ora sappiamo che questa è una categoria inventata diciamo una come dicevo prima una reificazione di un processo di trasformazione in realtà di un processo di astrazione Stephen Jay Gould fa come riferimento per spiegare questa condizione fa riferimento alla metafora della Huxley Chessboard cioè l'idea che noi ci siamo immaginati il mondo come una scacchiera in cui da una parte ci sta l'uomo e dall'altra parte c'è un giocatore molto corretto ma che è invisibile e che è la natura ecco è questa condizione che deve essere cambiata se immaginiamo di andare oltre la scacchiera di Huxley possiamo ridisegnare il come dire la civilizzazione intorno all'idea che in realtà noi facciamo parte della natura stessa non esiste nessuna scacchiera che determina la relazione di conflitto o di alleanza tra noi e la natura e la natura